E' stata ritrovata morta Federica Zarabara, la donna di 45 anni che nelle scorse ore era scomparsa improvvisamente nel nulla dopo essere uscita dalla sua casa di Imponzo di Tolmezzo in provincia di Udine. L'allarme era partito lunedì quando la donna si era allontanata a piedi dalla sua abitazione senza portare con sé il cellulare nei documenti e senza avvertire nessuno e senza lasciare messaggi. I familiari ne avevano denunciato l'improvvisa scomparsa allertando le forze dell'ordine e lanciando alcuni appelli online sui social per ritrovarla. Le ricerche della donna quindi erano iniziate poco dopo con l'impiego di numerosi uomini e mezzi di protezione civile, vigili del fuoco, volontari del soccorso alpino e forze dell'ordine. Nel tardo poveriggio intorno alle 18.30 di martedì 4 aprile la drammatica scoperta del corpo senza vita della 45enne. La salma della donna è stata rinvenuta in una zona boschiva sopra Tolmezzo recuperata in serata. Sono ora in corso gli accertamenti per capire le cause del decesso.